Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, oggi un video aggiornamento su quella che è la questione relativa allo scandalo della vendita delle icone e dei toti eccetera eccetera che ho denunciato quello che è stato lunedì scorso dopo aver raccolto un po' di prove ci tengo a portarvi questo video perché ci sono degli aggiornamenti in tal senso innanzitutto devo ringraziarvi per il supporto perché il video è stato condiviso veramente in ogni dove se ne è parlato ovunque quindi è esattamente quello che volevo e vuoi o non vuoi grazie anche appunto alla diffusione del video EA insomma ha dovuto rilasciare determinate dichiarazioni che andremo a vedere a breve senza perderci ulteriormente in chiacchiera direi di passare sulla schermata del pc dove ho raccolto appunto determinate cose che volevo farvi vedere a testimonianza del fatto che siamo diventati praticamente virali troviamo un articolo sul sito Outpump un magazine molto molto importante e molto molto seguito che tra le varie sezioni appunto anche la sezione sport e a tal proposito ha realizzato un articolo su questo argomento vedete che hanno parlato in maniera dettagliata eccetera eccetera e hanno avuto anche insomma l'accortenza di citare la mia fonte vedete che si trovano all'interno del video quelli che sono i miei screen e appunto si parla di quelle che sono le varie carte che vengono vendute eccetera eccetera a tal proposito il 10 marzo quindi esattamente il giorno dopo la pubblicazione del mio video EA ha rilasciato questo statement questa nota dicendo che siamo al corrente di alcune voci circa quella che è la vendita di carte Ultimate Team attraverso una investigazione stiamo cercando di identificare quella che è la condotta impropria e andremo a prendere quelle che sono delle azioni innanzitutto vogliamo essere molto chiari questo tipo di comportamento è inaccettabile e assolutamente noi in ogni modo andiamo a criticare quello che è successo qui capiamo insomma che questo va a creare tutta una serie di preoccupazioni circa un unfair quindi una situazione di svantaggio riguardo quello che è l'equilibrio del gioco e della competizione e insomma ci andranno poi ad aggiornare qualora riescano a trovare informazioni più chiare sulla sulla situazione su Outpump ci sono alcuni cenni relativi a quello che è il mercato globale di foot e addirittura vedete quello che è il mio link allegato all'interno dell'articolo non solo su Outpump la notizia ha fatto il giro un po' di tutte quelle che sono varie pagine Instagram eccetera eccetera addirittura ne ha parlato anche Wired Italia appunto parlando di questo Yaygate come è stato denominato ancora una volta hanno avuto l'accortenza di citare la mia fonte addirittura di mettere il link embeddato del mio video per chi insomma volesse un attimino andare a farsi un'idea più generale sulla cosa questo insomma va a completare quello che è il quadro che ha fatto detonare un po' questa situazione vedete che anche questo account Twitter ha riportato quelle che sono le mie notizie addirittura ragazzi ho fatto un breve colloquio anche col Daily Mirror che mi ha contattato circa questa situazione quindi probabile che esca un pezzo anche lì ad ogni modo il fulcro di questo video principale non vuole essere diciamo questa situazione ma quello che è questo aggiornamento rilasciato in data 12 marzo da parte di Yay perché che cosa è successo? succede che appunto dopo quella prima dichiarazione ci dicono un aggiornamento su quella che è l'investigazione sui giocatori più presto in questa settimana insomma siamo stati resi consapevoli di una sospetta attività relativa a quello che erano carte elevate in FIFA Ultimate Team abbiamo imparato che queste carte di foot venivano date ad account individuali e non venivano dunque guadagnate tramite gameplay o aprendo pacchetti eccetera 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 dunque e cosa è successo? succede che più di un account Yay era insomma compromesso e veniva utilizzato in maniera inappropriata direttamente per dare questi elementi direttamente ad altri account someone within Yay significa che era qualcuno all'interno di Yay quindi questo è un qualcosa di insomma molto forte perché va a togliere i dubbi su quello che era appunto un grosso punto di domanda perché non si sapeva se queste carte arrivavano veramente da Yay o meno invece a quanto pare hanno insomma rilevato che queste carte effettivamente venivano date da impiegati di Yay attraverso tutta una rete di intermediari come mi faceva notare il giornalista del Daily Mirror come se fosse proprio una rete di praticamente insomma vendita di stupefacenti in alto a tutto c'è diciamo il boss e poi sono tutti i suoi galoppini che vanno a diffondere il verbo per cercare i clienti quindi praticamente succedeva questo continuano e mentre c'è questa investigazione vogliamo insomma andare a condividere con voi un aggiornamento sulla situazione includendo il fatto che abbiamo imparato su una panoramica generale su quello che è il garantire il contenuto perché infatti c'è questa cosa che si chiama Content Granting Process ovvero il processo di garanzia del contenuto che loro come poi andremo a vedere dopo effettivamente prevedono sia dare carte a streamer eccetera eccetera ma dare questa possibilità appunto a fatto sì che nascesse questo sottobosco questo mercato nero quindi le azioni verranno prese per andare a troncare questo grosso problema il comportamento di cui abbiamo parlato è assolutamente inaccettabile e noi in nessun modo insomma vogliamo che i giocatori vadano ad acquisire carte attraverso l'utilizzo di denaro e questa pratica va esattamente contro quello che è la competitività del gioco e la sua integrità e inoltre va a violare quello che lì è User Agreement è qualcosa che noi assolutamente non tolleriamo non andiamo assolutamente a permettere lo scambio e la vendita di oggetti food food al di fuori del gioco per molte ragioni tra appunto tra queste quello che è una situazione di inequità all'interno della nostra community la nostra investigazione iniziale ha messo in mostra appunto un'attività insomma abbastanza sospetta che andava a includere un numero molto piccolo di account e di elementi però anche se non è un grosso insomma un grosso numero se effettivamente questa situazione venga approvata è assolutamente inaccettabile vogliamo ringraziare la community e i membri della community per aver fatto sì che questo problema venisse posto alla nostra attenzione in maniera molto rapida quindi io inizialmente ero anche spaventato che avrei potuto subire delle ripercussioni ma in realtà infatti noi stiamo facendo solamente un favore a fargli scoprire questa situazione adesso ci dicono cosa succederà siamo molto chiari mentre la nostra investigazione è ancora in atto andremo sicuramente a prendere azioni contro ogni impiegato che è stato trovato coinvolto all'interno di questa attività ogni elemento che è stato dato tramite questo processo illecito venerà rimosso dall'ecosistema di food e EA andrà a bannare in maniera permanente ogni giocatore che avrà acquisito tale carte tramite questo meccanismo adesso io ho letto delle cose un po' gambigue perché mi dice ma come vengono bannati questi hanno speso i soldi ragazzi ma voi nel momento in cui andate a fare un illecito è come se andate a comprare due chili di uno stupefacente e poi va a restano cioè è normale una roba illegale no? ora è chiaro è un parallelismo ma il concetto è quello se voi fate una cosa illegale è chiaro che vi prendete la punizione cioè non c'è proprio da andare a dibattere su questo a proposito di queste azioni andiamo ad apprezzare quanto questo vada in qualche modo a interessare quelli che sono i nostri giocatori e ci chiediamo scusa appunto per l'improprio utilizzo di questo meccanismo alla nostra community inoltre andiamo ad apprezzare quanto questa pratica sia frustrante in quanto arriva direttamente da EA e anche noi siamo molto arrabbiati sappiamo che la nostra community è stata insomma guadagnata nel tempo e la base della nostra community è assolutamente il fair play e l'attività illecita va assolutamente a minare insomma questo rapporto di fiducia che si è creato vabbè inoltre vogliamo andare a chiarire che sin dalla creazione di ultimate team tutti gli elementi non possono essere scambiati al di fuori del nostro gioco e quindi insomma quando si va a rompere questo principio noi assolutamente non lo faremo passare adesso ci vanno a spiegare che cos'è il content granting parliamo di content granting ossia succede per alcuni motivi ovvero questo processo affinché alcuni elementi specifici vengano dati ad alcuni account questo perché in quanto numero uno worldwide customer experience alcune volte i giocatori vanno a cancellare in maniera errata il loro account oppure vengono hackerati e per questo motivo alcuni account da parte di EA possono restituire questi giocatori quindi vi stanno spiegando perché c'è questo content granting secondo motivo il secondo scenario è quello del test della qualità ad esempio per fare alcuni test sulla chemistry vedete sull'intesa eccetera eccetera sul gameplay vengono date magari le carte più forti per vedere il gioco come reagisce quindi per testare quelle che sono determinate dinamiche all'interno del gioco terza ed ultima è quella della discretionary content granting ossia quella che sta accadendo ora in quanto vengono appunto date queste carte a quelli che sono atleti ovvero calciatori, partner oppure impiegati in quanto appunto diciamo privilegiati in questo meccanismo ci dice che la somma di questi oggetti dati attraverso questo processo è il meno dello 0,0006% di quelli che sono le carte presenti nell'ecosistema di FUT21 assolutamente non si va a impattare in maniera importante su quello che è il mercato ma è assolutamente un qualcosa che non va bene visto che comunque le carte sono anche non scambiabili e quindi non hanno un'associata coin value però dammelo il Renove Prime Moments e riparliamo cosa succede ora? quindi abbiamo lanciato una rigorosa investigazione e quindi stiamo andando a identificare gli account che hanno ricevuto queste carte in maniera illecita andremo a bannare permanentemente gli account identificati e abbiamo sospeso tutto il discretionary content granting quindi questo mentre per quanto riguarda quello sul testing la worldwide customer experience ancora ci sono quindi se venite hackerati vi ridanno le carte e quelli che devono fare i test continueranno a fare i test quindi alla fine di tutto EA sembra aver un attimino preso in mano le redi della situazione provvedimenti contro gli impiegati che verranno colti con le mani nel miele e verranno licenziati e probabilmente anche portati davanti al signor giudice mentre ban per tutti quelli che hanno usufruito di questa pratica illegale è nulla raga per quanto riguarda sto video è tutto volevo ci tenevo ad aggiornarvi su questa questione e fare chiarezza visto che insomma il video di lunedì ha veramente contribuito secondo me in maniera enorme a far detonare questa situazione quindi grazie per il supporto che gli avete dato un saluto nel vostro liberoschi vi aspetto come ogni giorno in live info in descrizione sulla piattaforma viola raga è nulla una buona domenica ciao ciao